Sarà una sorta di maratona consigliare quella che attende i 30 componenti del civico consesso per i prossimi due giorni. Giovedì prevista una seduta per discutere tra gli altri punti anche il piano triennale delle opere pubbliche, atto propedeutico all'approvazione del bilancio con seduta prevista per venerdì con inizio alle 9. Intanto giovedì si dovrà anche discutere del regolamento di istituzione delle consulte, dell'accreditamento delle strutture semiresidenziali per i minori, anziani, disabili e donne in difficoltà, della proposta di integrazione degli strumenti di democrazia partecipativa previsti nello statuto. Intanto per ciò che riguarda il bilancio, il documento contabile è appena arrivato alla commissione competente e dunque dovrà essere discusso e se i componenti riterranno necessario emendato in più parti e quindi venerdì sarà soltanto incardinato l'argomento. In sostanza si comincerà a parlarne giusto venerdì 29 perché la legge prevede che i consigli devono discutere dei bilanci prima di giorno 30. Dal punto di vista politico sarà una lotta, infatti il primo atto propedeutico, quello riguardante la vendita dei beni immobili è stato bocciato. Intanto se il bilancio non si approva tutti a casa, improbabile a qualche mese dalle elezioni. In merito alla bocciatura della delibera che riguarda appunto la vendita dei beni immobili del comune che ha visto i consiglieri di maggioranza uscire dall'aula, scrivono una nota i consiglieri dell'Udc e i poporali per l'Italia stigmatizzando la continua assenza della giunta e del tutto gruppo dell'ex PDL, oggi Forza Italia e il nuovo centrodestra, in occasione della votazione di importantissimi punti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale. Ultima continua la nota in ordine di tempo, quella svolta è sì martedì 26. Tutto questo continuano i consiglieri, evidenzia la profonda crisi della politica che vi è all'interno della giunta che di fatto continua ad amministrare pur non avendo quasi nessun appoggio in Consiglio Comunale e dell'ex PDL, unico partito di maggioranza, anche lui da tempo non tanto più convinto di sopportare l'azione amministrativa assolutamente fallimentare della giunta guidata dal sindaco Campisi. L'assoluto disinteresse di questa giunta alle problematiche della nostra comunità, concludono i consiglieri, evidenziato ancora una volta dalla grave assenza alle sedute del Consiglio Comunale di ieri, non sfugge ai nostri concittadini che ormai quotidianamente lamentano uno stato di abbandono dell'intera città.